Fornitore di sicurezza. Ora il vostro team professionale può servire e raggiungere un numero ancora maggiore di clienti, grazie a PowerManage 4.4. L'interfaccia di gestione della sicurezza di PowerManage 4.4 supporta molteplici sistemi d'allarme Tyco come PowerMaster, PowerSeries Pro e PowerSeries Neo. Inoltre, consente azionamento e manutenzione in remoto di vari sistemi da un'unica piattaforma. Questa soluzione presenta anche due app mobili che offrono il pieno controllo a installatori, imprese e privati. Risparmiate tempo e denaro e fate crescere la vostra clientela con PowerManage 4.4.